ciao ragazzi eccoci qua abbiamo beccato due a intervistare e andiamo a prenderli subitissimo eccoli qua ciao ragazzi sono loro gli organizzatori di questa fantastica cena di classe evento e ve li vogliamo presentare così ciao come ti chiami Ilaria e tu invece sei Luca allora come è stato organizzare questo evento cena di classe vi siete divertiti sì quante volte vi siete dovuti telefonare 20 mila volte papà via però il risultato è stato un successo sì siete soddisfatti sì perfetto fantastico carichi lanciati allora che classe 86 di foresto sparso siamo con scritti che cosa bella che bell'anno e cosa fai nella vita meccanico operaio tu invece assistente educatrice fantastico allora quindi abbiamo anche delle culture differenti vediamo se saranno abili a tal punto da indovinare il nostro convent quiz perché c'è un nostro nuovo gioco fantastico se indovinate il significato di sta parola vincete un free ring giuro faccio qua faccio vedere il free ring free ring free ring bevi gratis siete pronti siete caldi siete carichi allora la parola da indovinare è faretra cos'è la faretra vi do un aiuto è un contenitore è una cosa in cui ci vanno altre cose che lo sa chi lo sa chi lo sa cinque quattro tre due la fare uno peccati vi voglio bene il porta frecce il porta frecce la faretra andate a controllare un portafrecce andate a controllare perfetto volete fare un saluto prego è la vostra occasione ciao fantastico saluto anche gli amici a casa aspetta aspetta che c'è lui con il saluto allora noi vogliamo fare un saluto alla classe 1986 di foresto sparso provincia di bergamo poi inquadri pure tutti questi ragazzi il meglio d'italia l'abbiamo qua noi grazie a tutti Grazie a tutti